Aumenta la tariffa per il conferimento dei rifiuti allo stir di Battipaglia, dove ricordiamo confluiscono i rifiuti solidi urbani di tutta la provincia. Nei giorni scorsi Palazzo Sant'Agostino ha accordato il costo di 196 euro a tonnellata di rifiuti richiesto da Ecoambiente Salerno che gestisce l'impianto. I comuni pagheranno 47 euro in più a tonnellata a decorrere dall'esercizio 2018. Il commissario liquidatore della società Vincenzo Petrosino aveva annunciato da tempo la necessità di rivedere il costo che i comuni pagano per l'invio dei rifiuti. Nominato a inizio 2018, afferma di aver trovato una società che faceva acqua da tutte le parti. I bilanci 2014, 2015 e 2016 avevano prodotto, sostiene, una perdita di 8 milioni di euro e non erano stati approvati prima del marzo 2017. La mancata approvazione dei bilanci societari non aveva consentito l'adeguamento necessario per fronteggiare l'enorme esposizione in cui si trova la società provinciale della tariffa negli anni passati, il che aveva portato ad una sistematica perdita di 2 milioni di euro l'anno. L'adeguamento è sempre secondo con guaglio precisa. Se si risparmierà, i soldi verranno ridati ai comuni. La novità si ripercuoterà sui consumatori, dunque se i comuni non riusciranno a gestire meglio la raccolta dei rifiuti. Una stangata per le casse dei 158 comuni salernitani che dovranno pagare anche il pregresso. Il rincaro, a questo punto è molto probabile, avrà ripercussioni sulla bolletta della Tari.